Lo ha appena invocato chi si è segnato con la croce al termine della Santa Messa. Per Papa Francesco è dinamite, è lo Spirito Santo. Ma chi è in realtà lo Spirito Santo? A chi parla? Noi oggi abbiamo il grande onore di avere Salvatore Martinez, Presidente di Rinnovamento dello Spirito Santo ed è tra l'altro strappato a viaggi internazionali. Grazie Presidente, io ti dico grazie, ci fai un dono grande. Questa provocazione di stamattina, Presidente, nasce proprio da un'insistenza anche di Papa Francesco, lo Spirito Santo che nutre la vostra fede, che cementa relazioni, che getta ponti. Ma chi è o cos'è? Cosa sarebbe più corretto domandare? Eh, è interessante perché è donatore e dono al contempo, quindi in un linguaggio corrente dovremmo dire chi e cosa è al contempo. Facciamolo dire a Papa Francesco, un mese dopo la sua elezione disse ci dà fastidio. Bravo. Ci dà fastidio perché ci dà la pace ma non ci lascia in pace. È una inquietudine, un tormento costante a recuperare l'amore che ci manca, il bene che non riusciamo più a vedere tra le trame del male della storia. È, come dice Gesù, la promessa di un bel tempo che verrà. Un bel tempo si spera, è un modo meraviglioso per dire che c'è una speranza che non venude, ma... Bellissima questa sottolineatura. È qualcosa che ci chiede di muoverci ma al tempo stesso ci può dare anche la pace che cerchiamo. E come si mette insieme questo doppio meccanismo? È un miracolo. Quando Pietro chiede a Gesù dopo la promessa dello Spirito Santo verrà, il desiderio è quando? E Gesù dice non vi è dato di sapere quando verrà, ma verrà e quando verrà sarà tutto nuovo. E quando verrà vedrete che siete uomini nuovi. Quel Pietro che non era stato capace di difendere Gesù davanti alla folla avrà il coraggio di dire lo avete inchiodato sulla croce ma lui ha mantenuto la promessa e come vedete e sentite questo spirito si è effuso. Noi abbiamo dei sensi, noi vediamo, noi ascoltiamo, noi parliamo. Gesù promette che l'uomo nuovo sarà capace di una sensibilità nuova. Avrà dei sensi dinamizzati. Tu dicevi dinamite ma è la parola di Gesù, dinamis. Riceverete un potere, un potere dinamico e in fondo è questo amore che costantemente crea, che costantemente rinnova, che non si arrende mai, che è desideroso di lasciar vincere il bene continuamente. Questo è il dinamismo dello Spirito Santo in noi. Pertanto noi possiamo guardarci intorno. Quando la vita cristiana si arresta, quando il bene non vince, quando ci accorgiamo che al potere dell'amore si sostituisce l'amore del potere, quando ci accorgiamo che il peccato è talmente forte, aggressivo, da schiacciare l'uomo, lì dobbiamo chiederci dov'è lo Spirito Santo. È al lavoro lo Spirito Santo? Questa è la grande domanda. Non si è arrestata nella storia la vita dello Spirito? Lo Spirito lavora indipendentemente da noi? Certo. Questo lo promette Gesù, lo dice Gesù. La questione è corrispondere. Ciò che spesso ci manca, così che abbiamo dei deficit di Spirito Santo, è l'adesione all'azione dello Spirito. La storia non starebbe in piedi senza l'azione dello Spirito, perché anche in modo nascosto, noi non ce ne accorgiamo, ma è costantemente al lavoro nella storia. E non si serve soltanto di coloro che credono in Gesù e credono nella promessa. Questo lo dice il Concilio. Misteriosamente l'azione dello Spirito è nella storia, è negli uomini. Dove c'è bene, dove c'è giustizia, dove c'è misericordia, dove c'è difesa dell'uomo, lì c'è certamente l'azione dello Spirito Santo. Dunque, per un credente, si tratta di coscientizzare questa azione, si tratta di non deludere una speranza che non può deludere. Dice la beata Elena Guerra, che nel Novecento è stata con lei che lo ha fortemente riscoperta, noi un giorno di ogni venuta vuoto dello Spirito Santo dovremmo rendere conto, perché costantemente lo invochiamo e gli stesso ci fa pregare, però è come se inviti qualcuno a venire nella tua vita e poi gli giri le spalle. Nella concretezza del quotidiano, lo Spirito cos'è? Una voce, un'intuizione, una parola, un incontro? È un pianto. Fammelo carne. È un pianto, è un gemito, è una danza, sono mani alzate, sono ginocchia genuflesse, sono grida di gioia, sono grida di sperate. Tutto ciò che è l'anelito più profondo dell'uomo verso Dio e dell'uomo verso l'uomo ha certamente nel fondo, nel profondo, la presenza e l'azione dello Spirito Santo. Tu quando te ne sei accorto per la prima volta? Quando è che ti ha parlato o lo hai ascoltato? Questa è una cosa molto interessante ed è stato forse il momento che ha cambiato la mia vita. Io ero all'università ed ero già un credente, un cristiano, un animatore nel rinnovamento nello Spirito. e con mia moglie Luciana andavamo verso Milano, da Cremona, un incidente automobilistico, un giovane muore, ci fermiamo, proviamo a soccorle, non c'era nulla da fare, l'indomani volevo sapere qualcosa di più della storia di questo giovane, scopro che aveva la mia stessa età e il mio stesso nome. E lì mi sono ricordato di una parola del Signore. E Gesù dice lo Spirito vi ricorderà, lo Spirito vi insegnerà, lo Spirito vi convincerà. E questo gesto era il modo attraverso il quale lo Spirito per la prima volta mi parlava in un modo straordinario. Quale parola del Vangelo mi faceva ricordare? Stolto, tu stai accumulando ricchezze nella tua vita, va tutto bene. Quello che ho immaginato per me. Ma questa sera, questa notte ti sarà richiesta la vita e tu non sei pronto. Dunque mi sono accorto, ecco l'inquietudine di cui ti parlavo, che c'era qualcosa di più che avrei dovuto fare e questo sì, questo passaggio, ha determinato poi un cambio decisivo e definitivo della mia vita. È un'ancora di salvezza nei momenti bui lo Spirito? Sì, per questo si unisce a noi, alla nostra preghiera, ci fa pregare quando non sappiamo pregare. Dice Gesù vi suggerirà anche le parole che dovete dire. Quindi quel veni, quel vieni Spirito Santo, quel sentirlo dentro di noi, è un miracolo che deve ripetersi ogni giorno. Allora, Gesù è il maestro che stava a fianco ai suoi discepoli e pertanto lo chiamiamo il Dio con noi. Lo Spirito Santo è il Dio in noi, è il maestro interiore, dice Sant'Agostino. Dunque l'avvocato, colui che ci sta accanto, non rende fino in fondo esattamente la portata di questa presenza di Dio in noi. è Lui che ci divinizza, è Lui che ci umanizza, è Lui che ci rende capaci di fare ciò che noi non immagineremmo neanche di poter fare. E forse tutto questo, soprattutto nei momenti neri della nostra vita, quando siamo sicuri di crollare, e poi ti arriva quella forza inaspettata, quella capacità di dire qualcuno mi sta tenendo per mano e mi tiene in braccio. Allora sai che ti dico? Ma di più, ti tira fuori. Per i capelli. Ti tira fuori per i capelli. Questa immagine tua, di fronte a quella morte, una vita di fede, come dice giustamente tu, noi pensiamo che siamo arrivati, abbiamo capito tutto, e poi ti accorgi che ci manca qualcosa. Mi aiuta a portare a casa vostra la storia di un papà e una mamma. Si chiamano Mauro e Ornella. Mauro e Ornella perdono quanto di più caro. C'è un figlio. Ma guardate passo passo con Maurizio Iomine come arrivano a scoprire la potenza dello Spirito Santo. Guardi con noi. Certo. Tutto comincia a fine 2016. Comincia Matteo ad avere, ad accusare dolori, sembra nervosciatico. Dopo una serie di approfondimenti si arriva a pensare a qualcosa di più serio. e la conferma che è uno stesso ercoma l'abbiamo il 17 di marzo del 2017. Io all'inizio non nascondo che mi sono arrabbiato in modo proprio grande col Signore perché da anni ero a suo servizio e dicevo se questa qui è la paga per averti servito fino a qui e se questo qui è il tuo amore io proprio non so cosa farnene. Mi sono ricordato del Vangelo di Giovanni, capitolo 6, quando Gesù si rivolge ai discepoli vedendo che la gente se ne andava e chiede volete forse andarvene anche a voi e io lì mi sono sentito interrogato in prima persona e lì in lacrime mi sono fermato e davanti a lui gli ho chiesto da chi andrò Signore solo tu hai parole di vita eterna ma mi devi aiutare in questa situazione. Più dall'inizio, più dai primi giorni che mi ricordo quando il medico ci ha chiamato e ci ha dato questa sentenza, a parte le prime ore davvero di smarrimento in tutti e quattro è subentrata questa forza, questa energia di affrontare tutte le cose insieme. Quando abbiamo saputo di questo risponso gli ho detto sai Matti abbiamo davanti una montagna da scalare vorremmo salire mano nella mano tenendoci per mano se qualcuno di noi si stancherà gli altri rallenteranno oppure ci sosterremo, ci aiuteremo, ci trascineremo ma lassù dobbiamo arrivarci insieme. Durante l'ultimo periodo di ricovero ci è stata data una stanza dove abbiamo potuto vivere la nostra quotidianità perché quella stanza era diventata la nostra casa vivevamo in quella stanza giorno e notte, mangiavamo eravamo sempre accanto a Matteo e piano piano quella stanza si è trasformata in una sorta di cenacolo abbiamo avuto tante testimonianze di persone che sono venute a trovarci anche i medici stessi entrando in quella stanza dicono che respiravano un profumo particolare sentivano tutti, vivevano tutti un senso di grande pace e lì abbiamo capito che veramente il Signore era lì con noi non ci aveva mai abbandonato Lascia senza parole questa testimonianza per la quale ringrazio il nostro Maruizzo Iovine che per la prima volta ha detto che ha avuto difficoltà a tagliare delle parti a questa intervista perché valeva la pena ma speriamo che in seguito la potremo riproporre e sentirla tutta quello che mi sconvolge è la similitudine tra un'immagine Presidente che tu mi hai appena regalato ci hai appena regalato e questa storia anche tu pensavi di aver capito tutto della fede avevi un cammino già tracciato Mauro lo dice chiaramente io me la prendo con Dio io ti servo e tu mi rispondi così come dire che non basta essere battezzati per ascoltare, per sentire la forza dello Spirito Santo non basta quello ci dobbiamo mettere del nostro perché tutto arrivi mi fai commentare per un istante ad un certo punto lui ha detto citando il Vangelo di Giovanni capitolo 6 il discorso di Gesù era duro e molti se ne andarono anche voi volete andarvene lui sentiva e da credenza sentiva l'inadeguatezza ma poco prima Gesù aveva detto una cosa in riferimento allo Spirito è lo Spirito che dà la vita la carne non giova a nulla che vuol dire? vuol dire che questa risurrezione che è avvenuta nella vita di questa famiglia gli occhi di quest'uomo sono trasfigurati passano da questo dolore così profondo da questa morte non c'è vita se non c'è morte e noi nella nostra esperienza umana nella nostra carne così fragile così decadente così decaduta quanto più facciamo esperienza del dolore tanto più lo Spirito ci permette miracolosamente miracolosamente di fare esperienza di risurrezione non è ingiusto questo non è ingiusto che per scoprire questa forza si debba attraversare necessariamente quella croce l'ha attraversata il figlio di Dio è l'espressione più drammatica dell'incarnazione e lui stesso dice se possibile questo passaggio mi sia evitato questo calice amaro ma alla fine entra fino in fondo è soltanto attraverso questo dolore questo abisso noi possiamo aprire gli occhi e scoprire che c'è un cielo un cielo che ci appartiene un cielo che ci ha offerto un cielo che ci è regalato l'uomo non è esentato dal dolore noi ogni giorno moriamo noi ogni giorno facciamo esperienza di morte ma quando la morte tocca la nostra vita la nostra carne e in un modo o in un altro un giorno o in un altro questo avverrà se questo avviene nello Spirito Santo nello Spirito Santo noi pur rimanendo uomini con tutti i nostri limiti siamo capaci di parlare così come abbiamo sentito di rispondere al dolore così come questa famiglia ha risposto e di generare intorno a noi una comunione un'attrazione che solo l'amore può donare quel fuoco che stava alle spalle quel camino è lo Spirito il fuoco fa due cose contemporaneamente ci dà calore e raduna insieme il fuoco il focolare e la famiglia questo fa lo Spirito quando si manifesta genera un amore che nessuno saprebbe spiegare un amore che avviene qualcosa che accade che è dentro di te e poi genera comunione il fascino del miracolo il fascino di questa risurrezione ha generato intorno a questa famiglia sicuramente una fede più grande torniamo subito su questo concetto del miracolo presidente perché nelle parole di questa madre che tra poco conosceremo c'è esattamente tutto questo un miracolo accade in quella famiglia qualcosa di spiegabile una forza mai posseduta prima ce ne andiamo un minutino in pubblicità restate con noi perché immagino quanta gente si stia aggrappando alle tue parole presidente in questo momento salvatore martinez questa mattina presidente nazionale di rinnovamento nello Spirito Santo è una guida in quanto di più misterioso imponderabile forse leggero si possa immaginare leggero intendo come consistenza eppure capace di cambiare la nostra vita di esploderci dentro come la dinamite come ha detto Papa Francesco parliamo dello Spirito Santo Presidente siamo rimasti appesi con una storia incredibile di rinascita dopo un lutto gravissimo un padre e una madre che perdono un figlio per malattia ma perché lo Spirito Santo non fa semplicemente quello che potrebbe fare uno psicologo un counselor una guida dov'è la potenza dello Spirito Santo perché si risorge con lo Spirito e con tutto il rispetto per i medici e con tutto il rispetto per coloro che si mettono a fianco all'uomo e cercano di aiutarlo lo Spirito Santo è Dio lo Spirito Santo non è solo la medicina di un cuore ferito chi può curare il cuore chi può curare il cuore spezzato da un dolore dalla morte di un figlio chi può dare una ragione umana sufficiente per trovare una consolazione la consolazione è un dono divino ed è un dono divino che bisogna meritare che bisogna cercare che bisogna desiderare dunque questa sofferenza che si trasfigura anche in una gioia come si può avere gioia San Paolo dice avete conservato la gioia anche in mezzo alla grande tribolazione questa è l'azione che lo Spirito Santo compie allora chi ha fede un credente non può abdicare a questa presenza silenziosa discreta così che possiamo lasciarlo anche fuori dalla nostra vita è la prima persona che dobbiamo includere nel tempo del lutto nel tempo del dolore se crediamo che da lui viene la consolazione ma poi c'è il valore della comunità lo Spirito Santo fa la chiesa lo Spirito Santo è nella chiesa è nella comunità dietro un dolore si genera una misericordia un affetto un'amicizia che è la più grande terapia del cuore la più grande vicinanza spirituale che si possa desiderare nel momento della prova tu hai scomodato un'immagine bellissima il camino dinanzi al quale Mauro e Ornella sono stati intervistati dal nostro Maurizio Iovini e quel camino fa casa ci vogliamo tornare per un momento sì certo torniamoci Mauro e Ornella negli ultimi momenti io ricordo che vedendo mio figlio su quel letto che cominciava a trasudare sangue misto ad acqua saliva in quel momento ci ho visto proprio Gesù sulla croce che stava dando tutto io ricordo di essere uscito da quella stanza perché questa cosa mi aveva veramente toccato profondamente e uscendo da quella stanza per quasi sollevare un attimo la testa dei pensieri ricordo che ho sentito un fortissimo dolore al petto è accaduta una cosa che mi ha veramente sconvolto dentro di me ho visto come l'immagine di Dio Padre che vedeva in quel momento Gesù sulla croce che stava aspirando e ho sentito quel dolore tanto forte e come se una voce mi dicesse questo è il dolore che io ho provato vedendo mio figlio sulla croce adesso lo conosci anche tu in quel momento lo stavo comprendendo in quel momento riuscivo a comprendere quanto Dio mi ama e mi ama il dolore il dono più grande che mi ha lasciato Matteo è stato che mi sono trovata a avere delle delle potenzialità delle forze che non sapevo di avere io sono serena con Matteo con quello che è successo con Matteo perché lui è salito al cielo ma io gli ho detto tutto quello che gli avrei voluto dire di tutto l'amore che provavo per lui e Matteo mi ha lasciato tanta forza anche quella di parlare davanti a tante persone è proprio vero che quando tu hai questo amore nel cuore non puoi non donarlo agli altri noi crediamo che di dover proprio accogliere come una missione che ci ha lasciato il fatto di testimoniare la presenza dello Spirito Santo può trasformare ogni cosa quando lasci operare lo Spirito di Dio nella tua vita anche una cosa può sembrare impossibile da accogliere perché non c'è penso peggior cosa per un genitore che dover vedere un figlio morire però noi sappiamo dov'è Matteo lo sappiamo perché l'abbiamo consegnato io perlomeno l'ho consegnato con le mie mani nelle mani di mio padre io credo di interpretare la domanda di molti tutti noi di fronte a una prova come quella vorremmo avere la stessa quasi garanzia che lo Spirito possa accenderci come dinamite però tu hai detto che va cercato va provocato va fatto proprio allora come si raggiunge quello Spirito come si passa da quell'inquietudine di dolore a quell'inquietudine di pace che dobbiamo fare noi dobbiamo rinascere la domanda che tu hai fatto cosa dobbiamo fare è la stessa domanda che fece Nicodemo davanti a Gesù era un rabbi anche più anziano di lui un buon uomo cercò di salvarlo più di una volta e ad un certo punto preso dal fascino di Gesù gli dice ma che cosa devo fare io e vorrei somigliare a te e gli dice devi rinascere e la parola l'avverbio greco può significare due cose o di nuovo o dal grembo e lui pensa dal grembo di una madre ma sono nato una volta non posso ritornare no devi rinascere dall'alto cioè devi accettare la possibilità che nella tua vita accadrà qualcosa di nuovo devi includere Dio in una maniera nuova e lo dicevi ed è un mistero anche questo spesso questa rinascita avviene attraverso un dolore profondo nel giorno di Pentecoste si sentirono trafiggere il petto i 3000 esattamente come quell'uomo diceva mi sono sentito trafiggere il petto e a questo punto la conversione la possibilità di una vita nuova Nicodemo chiede una vita nuova quegli uomini trafitti da un dolore che li colpisce sentono il desiderio di una vita nuova lo spirito è vita nuova è domanda di vita nuova è richiesta di vita nuova dunque la prima cosa che dovremmo dire è siamo soddisfatti quanta gioia abbiamo nella nostra vita quanta pace abbiamo nella nostra vita quanto amore siamo capaci di dare se c'è deficit d'amore di gioia di pace c'è deficit di spirito santo e questo è già un interpello è un desiderio bisogna alimentarlo bisogna farlo crescere ma matura di suo perché lo spirito santo è già in noi e desidera soltanto questo lo spirito santo va pregato? certamente va pregato e ci fa pregare la cosa interessante è che quando noi decidiamo di pregare è lui che prega in noi è lui che ci suggerisce le parole è lui che ci fa diventare ancora prima che lo chiediamo ciò che lui stesso vuole lui vuole il nostro bene vuole la nostra gioia vuole la nostra felicità come non crederti presidente anche per tutto quello che anche voi come rinnovamento nello spirito santo riuscite a accendere anche nelle realtà più difficili della nostra vita sai presidente io a lanciare la scheda con cui ti saluto c'è da chiedersi anche se mai interverrà lo spirito santo in un fenomeno drammatico delle nostre ore quello dell'odio noi siamo incapaci di gestire i rapporti umani a volte anche i nostri pensieri in una maniera splendente e luminosa ci mettiamo sempre uno zampino forse la risposta era data tu questa mattina dovremmo amarci veramente di più io ti saluto e ti ringrazio io ringrazio te e non so davvero come ringraziare te e tu ufficio stampa per averci dato la possibilità di averti grazie di essere stato con noi grazie a tutti